Lo Stato della città del Vaticano è una città stato indipendente d'Europa ed è il più piccolo stato sovrano del mondo sia per popolazione 836 abitanti nelle stime del luglio 2012 sia per estensione territoriale. La città del Vaticano è un'enclave nel territorio italiano inserita nel tessuto urbano della città di Roma e nello Stato vige un regime di monarchia assoluta, teocratica elettiva di tipo patrimoniale con a capo il Papa della Chiesa Cattolica. La lingua ufficiale è l'italiano mentre il latino è quello della Santa Sede. Lo Stato della città del Vaticano batte moneta propria ma per effetto dell'unione doganale monetaria con l'Italia adotta l'euro. In Vaticano inoltre edito un giornale quotidiano L'Osservatore Romano fondato nel 1861 e dal 1931 funziona un emittente la radio vaticana che trasmette in tutto il mondo in varie lingue. Come ogni Stato la città del Vaticano ha un suo inno nazionale ossia l'inno in marcia pontificale. Il testo è di Antonio Allegra mentre la musica è di Charles Gonoud. L'ino venne adottato il 16 ottobre del 1949. La sovranità sulla città del Vaticano spetta la Santa Sede. È una monarchia assoluta sotto l'autorità del Papa. Il pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Durante la sede vacante i suoi poteri vengono assunti dal collegio cardinalizio. Per l'amministrazione del territorio Vaticano il Papa si avvale di un governatorato al cui vertice c'è un cardinale mentre per il governo della Chiesa Cattolica il primo collaboratore del Papa e il cardinale segretario di Stato.